Il Consiglio regionale sceglierà nel corso della seduta di oggi i tre grandi elettori della regione Abruzzo che parteciperanno alle elezioni del Presidente della Repubblica nel prossimo mese di marzo, assise che dopo lo slittamento di qualche ora prenderà il via alle ore 15 per permettere uno screening a tappeto dopo le positività riscontrate nei consiglieri Montepara e Testa. Non è escluso a questo punto il ritorno alla modalità online. Tra le fila della maggioranza di centrodestra in sella dal febbraio del 2019 la scelta ricadrà sul Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia, sul Presidente dell'Assemblea regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia. Il terzo nome individuato insieme alle forze di opposizione è invece quello della capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. La pentastellata in particolare avrebbe il voto sicuro con l'ausilio dei consiglieri di centrosinistra vista anche la profonda spaccatura insieme al Movimento. Proprio il Presidente della Giunta regionale intervenuto questa mattina nella trasmissione Omnibus di La Sette non ha ostentato nessun problema a confermare la propria volontà e quella del centrodestra nel sostenere Silvio Berlusconi alla guida del Quirinale. Io naturalmente voterò quello che il centrodestra deciderà di votare tutti insieme. La nostra speranza e il nostro auspicio è che tutto il centrodestra abbia una candidatura unitaria e che tutti insieme la sosterremo. Berlusconi è molto amico dell'Abruzzo, conosciamo tutti l'impegno di Berlusconi per la ricostruzione post-sisma all'Aquila e quando viene in Abruzzo raccoglie sempre tanta simpatia, tanta gratitudine, tanto affetto e sono certo che se fosse Presidente della Repubblica la Regione Abruzzo avrebbe un amico vero al Quirinale. Grazie a tutti.